Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video ricche giù, alzi da Nick e Batman oggi torniamo un po' dietro il tempo ma sempre siamo a tema delle card ovvero abbiamo parlato di Batman, infatti qua abbiamo la collezione Batman Card Game uscita molti anni fa, andiamo a scoprire, non è completa però abbiamo la maggior parte delle card e voilà, eccoci qua, questa qua è la copertina Batman Card Game della EDIBUS questo qua è il retro, non so se voi la conoscete, se avete fatto questa collezione, non è completo ma vi faccio vedere che spettacolo sono le carte, esatto, qua abbiamo la checklist, abbiamo un totale di qualche card 160, 160, speciale orografiche e speciale metal, eccola qua, guardate lo splendore, tutti i Batman, come dice il nome appunto abbiamo anche il gioco di carte, infatti nel basso aggiunge più circa l'attacco, vi faremo vedere anche lo sfondo di gioco, guardate il retro delle card, molto bello, poi ci abbiamo inserito delle card detective comics presi al figu con, ti ricordi? eh sì, come non mi ricordo, per riempire il vuoto, i lotti del... abbiamo tutti i Batman in azione, questo è il retro detective comics, Batman, Batman, con la speciale metallo, vedi che bella, si vede l'effetto si si batmona sulla batemoto... un altro minuzio Batman, 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 quà abbiamo altre... guardiamo anche robin iniziano arrivare anche a batmobile anche abbiamo così così il casco c'è anche questa altra batmobile e due robin uno robin qua e uno qua sono troppo belle altre batmobile un atto mobile robin e altre batmobile poi abbiamo la carta di robin speciale giocano giochi abbiamo anche dettagli come giusto e ore e sarebbe altri giochi giochi altri card di detective comics qua qua carta speciale del gioco due facce il joker giochi giochi operbatton o il pinguino e due facce il ticco non s Department s due facce che si permane inalsa pinguino mini mista 1920 e poi qua abbiamo in quale la pianta la gioco c'è il regolamento e poi c'è lui due facce che avevamo già visto prima si due facce poi abbiamo il killer croc killer croc e mister freeze anche giù but next next qua abbiamo dei duelli due facce verso batman gioco verso batman batman verso joker batman verso eligmista e batman verso due facce batman verso pinguino e batman verso joker di nuovo poi joker verso batman e queste passate le pagine dietro batman verso pinguino gioco verso batman batman verso man batman batman gioco e verso batman ed è sempre a zero senza neanche un graffo ragazzi 3.000 combattimenti killer croc verso batman ma lui rimane sul pezzo batman verso joker batman verso due facce batman verso due facce e la batmobile allora inizia anche i gadget abbiamo il bat ciclo il bat glider l'idro batte il batarang famosissimo il bat drone e bat dual laser il teaser il mini computer e il binocolo poi abbiamo il veicolo di joker il veicolo di joker il veicolo di gioco se non l'hai capito poi abbiamo il veicolo di joker e il veicolo di pinguino quindi in questa pagina se non l'hai capito ci sono i veicoli di joker e pinguino e pinguino poi il veicolo di joker l'inigmista il veicolo due facce due facce due facce il molo di gotham il ponte di gotham e gotham city poi abbiamo il commissariato il commissariato di gotham city la bat caverna bat caverna arkham l'arcam asilum dove tengono i peggiori prigionieri e poi le regole del gioco esatto e poi questo è il finale non si potrebbero anche ordinare le card le card mancanti bene quindi questo qua era l'album di batman card game andiamo i saluti andiamo i saluti con questo batman bene ragazzi questo video giunge al termine abbiamo presentato batman card game anche se gli accolini anni fa una collezione che è troppo bella tutte le collezioni di batman dei supereroi sono stupende non lo aveva a dire come se ti ricordi scherzi al canale ti vai al campanile lasciate anche il video commentate su questi video e seguirci sui social link in descrizione mi raccomando ora andiamo a gotham ovvio ciao ragazzi